Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Il maltempo minacciato da giorni non si è fatto attendere, è arrivato anche in riviera questa mattina e non sono mancati i problemi e i danni. Vediamo il servizio. Il Garbino, solitamente presagio di cambiamenti meteo in arrivo, non sbaglia. Ieri il vento ha cominciato a soffiare da metà giornata per poi calmarsi temporaneamente in serata, ma con temperature e umidità ancora alte. Nella notte un primo calo del termometro e questa mattina tra le 9 e le 10 i primi scrosci in riviera prima del Clu, poco dopo le 11, una precipitazione breve ma di forte intensità accompagnata da forti raffiche di vento che hanno determinato anche alcuni danni. Nelle immagini gli ombrelloni danneggiati al bagno 100 di Rimini Sud. Gli scarichi a mare hanno fatto scattare il divieto di balneazione per 18 ore in diverse zone di Rimini, dove il PSBO non è ancora a pieno regime e anche in una zona di Riccione. Una situazione di instabilità destinata a durare anche per tutta la giornata di martedì, con un calo delle temperature che a metà settimana saranno di 10 gradi e oltre sotto rispetto a quelle comunque ampiamente superiori alle medie degli ultimi giorni. Ora cambiamo argomento. Il crollo nei settori costruzione e commercio traina verso il basso il numero di imprese straniere attive in provincia di Rimini. I dati diffusi dalla Camera di Commercio sono in netta controtendenza rispetto a quelli regionali e nazionali. Vediamo il servizio. Calano le imprese straniere attive in provincia di Rimini. Al 30 giugno di quest'anno sono 4.773 il 2% in meno del 2022. Un dato in controtendenza rispetto a quelli regionali e nazionali dove la dinamica è invece positiva. Le imprese straniere rappresentano comunque il 13,6% di quelle attive, in linea con i numeri emiliano-romagnoli e superiori a quelli medi italiani. Costruzione e commercio sono i settori più rappresentati dove si concentrano rispettivamente il 32,7 e il 31% delle attività straniere riminesi. A grande distanza c'è poi il comparto, alloggio e ristorazione col 10,5%. Proprio quest'ultimo però segna un'incoraggiante crescita, più 2,9, a differenza dei crolli registrati proprio nel commercio dove le imprese straniere calano del 5,5% e delle costruzioni meno 3,7%. Tre aziende su 10 attive nel riminese nell'ambito edile sono comunque gestite da stranieri. A livello di incidenza seguono poi commercio e trasporti entrambi al 17,4%. Riguardo alla natura giuridica, il 75% delle ditte straniere è impresa individuale e solo il 16,3%, anche se in forte crescita, è società di capitale. Oltre la metà è attiva nel comune di Rimini, il 10% in quello di Riccione. A livello di incidenza spicca però il piccolo comune di Sassofeltrio, dove le aziende straniere sono oltre il 19% del totale, seguito da Rimini, 17%, San Clemente, 15,2% e Bellaria e Giammarina, 15%. Infine Albania, 757 imprese, Romania, 411, Bangladesh, 389, sono i primi paesi di provenienza degli imprenditori esteri attivi in provincia di Rimini. La sindrome di Klinefelter è una malattia genetica dovuta alla presenza di un cromosoma X in più negli individui di sesso maschile. Da otto anni l'associazione Nascere Klinefelter si impegna per una corretta informazione su questa sindrome e per sfatare le tante inesattezze che circolano in rete e che spesso gettano nella preoccupazione e nello sconforto tanti futuri genitori. Molti hanno deciso di tenere il proprio bambino proprio dopo essersi avvicinati all'associazione. I prossimi 2 e 3 settembre nella sala convegni SGR di Rimini si terrà anche un convegno nazionale con famiglie, esperti e medici. Sentiamo allora le parole del presidente dell'associazione, Massimo Cresti, con cui avevamo già tenuto a battesimo l'associazione proprio nel periodo della sua nascita. Vediamo. Questa patologia ce l'ho anch'io, sindrome di Klinefelter, è un cromosoma X sovrannumerario nel corredo cromosomico, ma non comporta nulla di che, solo che va a incidere diciamo a livello del maschio nella fertilità e quindi parecchia gente che ce l'ha, che la vive, ricordo che siamo incidenza sulla popolazione, uno ogni 400 nati maschi, quindi tantissima gente che ce l'ha e non sa di averla, basta un semplice esame di mappa genetica. La cosa più triste è che le donne in attesa oggi fanno il DNA fetale. Questa patologia viene scoperta. Non essendoci a livello mondiale degli studi sulla variante più lieve che è la 47 cromosomi, ognuno di noi va a cercare dal professor Google e il professor Google ti spara delle cose ignobili, ritardo mentale, ritardo motorio, ritardo del linguaggio. Ad oggi posso dire che abbiamo salvato dall'aborto oltre 400 bimbi, ma oltre la metà di questi avevano preso l'appuntamento per interrompere la gravidanza. Vedendo il video su YouTube della mia intervista in radio hanno capito che non abbiamo quali problemi per fare una vita normale. Sono tornati a casa, hanno chiamato l'associazione e ci hanno detto che vedendo l'intervista di Massimo a radio Icaro, Icaro TV, noi impegniamo il bambino. L'ultima che ci è capitata proprio una settimana fa è alle 22esima settimana, quindi non sarebbe neanche un'interruzione semplice. Proprio i medici che gli dicono prima di prendere decisioni da non tornare indietro contattate l'associazione. L'associazione in questi anni è cresciuta tantissimo, siamo arrivati a oltre 550 soci, in ogni regione c'è un referente. Siamo riusciti ad aprire un ufficio operativo, è a Corinaldo, nelle Marche, e questo ufficio operativo ha dato una svolta all'associazione perché tutti noi eravamo come volontari. Adesso avere un ufficio operativo con degli orari, con una persona che è sempre lì, avremmo bisogno di un sostegno per andare avanti perché le spese ci sono e c'è qualcuno all'ascolto che vuole sostenere un'associazione che purtroppo siamo poco conosciuti, però salviamo vite, portiamo la giusta informazione nel dovuta maniera, non imponiamo niente a nessuno, però uno prima di arrivare a interrompere una gravidanza deve essere informato. Chiudiamo con lo sport. Sabato sera l'Atletic Poggio, inserito nel girone O di seconda categoria, ha presentato la nuova stagione. A Sant'Arcangelo Mare, alla presenza del sindaco Ronny Raggini e dell'assessora allo sport Angela Bartolini, sono state annunciate diverse novità come la collaborazione con la Victor San Marino, quella con il Rimini per il calcio femminile e con il maestro di tecnica Roberto Neri del Giovanni Conti Training Group e l'adesione anche al progetto Prevenzione, Crescita e Sport di Fisiocinetica. Vediamo. Speriamo un cammino luminoso e di fare il meglio possibile per la stagione nuova avventura. Io cercherò di proseguire il cammino che abbiamo intrapreso anni fa quando abbiamo creato il settore giovanile e di portare avanti sempre con lo stesso credo quello che abbiamo fatto finora. Sono molto contenta della fiducia che le famiglie ripongono in noi perché noi in estate facciamo il Summer Camp che è un'attività gratuita e devo dire che a luglio abbiamo avuto un boom non di richiesta di informazioni ma di iscrizioni proprio perché ci dicono comunque sia sappiamo che noi lavoriamo con gruppi al massimo di 20, 23, 24 bambini e dico la verità a volte chiudiamo le iscrizioni all'annate quindi diciamo che questa cosa forse ha dato un po' la spinta ma mi sono meravigliata della fiducia che hanno guadagnato comunque sicuramente i ragazzi sul campo poi quando è la fine. Stiamo lavorando anche perché noi abbiamo cambiato i giocatori del centrocampo quindi dovremmo ritrovare i ritmi e anche l'intesa per cui ancora non ci siamo, è chiaro che adesso stiamo lavorando, le amichevoli ci servono per trovare l'intesa tra i giocatori nuovi e speriamo di arrivare all'inizio del campionato almeno con un 80-90% di forma fisica e anche di gioco. L'ambizione è quella di raggiungere i play-off quest'anno sperando di riuscirci per poterci giocare le nostre carte e provare a tornare in prima categoria. Tutto quello che abbiamo fatto l'anno scorso non conta più, bisogna resettare tutto, dobbiamo andare a conoscere il girone nuovo perché non lo conosciamo, non conosciamo le squadre, non sappiamo come si sono rinforzate, cosa hanno cambiato per cui diciamo che almeno per il girone d'andata è tutta una scoperta. Noi partiamo dal presupposto che i bambini sono bambini, in realtà la distinzione maschio-femmina è una distinzione più di noi adulti che dei bambini e questa cosa di poter lavorare con i gruppi misti a noi piace molto, noi abbiamo veramente femmine in tutti i gruppi. Non nascondo che però probabilmente gli va data qualche nozione in più, qualche contesto dove loro siano etereogenei anche dal punto di vista del sesso, diciamo così. Quindi in realtà secondo me creare un ambiente diciamo in loro comfort secondo me può essere la scelta giusta, può essere veramente che possa diventare una sorta di polo della Val Marecchia dove veramente fare da incubatrice a questi giovani calciatrici che hanno questa passione che non è assolutamente ormai in mano gli uomini e i maschi. E questo è tutto, siamo arrivati in chiusura del nostro Tg, grazie per averci seguiti ed essere stati con noi, l'informazione torna questa sera alle 19.15, buon pomeriggio.